Avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato. Sarebbe stata questa la motivazione che ha portato il 24enne di Cardito, Tony e Subtibadre, fermato per omicidio volontario e tentato omicidio, a picchiare fino a uccidere Giuseppe, il bambino di 7 anni, figlio della compagna, e a ferire gravemente la sorellina di Otto. Questa la confessione dell'uomo, di cui riferiscono vari giornali, al termine del lungo interrogatorio. I bambini sarebbero stati colpiti, ha detto, a pugni e calci, ma non come trapelato con il manico di una scopa. L'uomo avrebbe rotto la scopa invece per rabbia. Avevamo fatto sacrifici per comprarlo, ha aggiunto Tony Badre, riferendosi al letto nuovo, per tentare di giustificare il suo gesto. Intanto la procura di Napoli Nord sta effettuando accertamenti sulla madre dei due bimbi. La donna ha confermato agli inquirenti le violenze commesse dal convivente, ma ha riferito di non averle denunciate, forse per paura. È su questa circostanza decisiva che la procura vuole vederci chiaro, e non è improbabile che la donna possa essere iscritta nel registro degli indagati per non aver fatto nulla per impedire il pestaggio. I carabinieri del ROS hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari per associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche interne al mandamento, facendo luce anche sull'omicidio di Gaetano Falcone, avvenuto a Montedoro nel 1998. Documentata inoltre la pressione estorsiva sul territorio, ai danni di imprenditori e commercianti e un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, approvvigionate nel capoluogo regionale. Visita napoletana e del presidente della Camera Roberto Fico intervenuto all'incontro Natura e benessere nel progetto degli spazi pubblici contemporanei. La sinergia tra le istituzioni sia locali sia nazionali ma anche con altre istituzioni come le università pubbliche possono creare, con i cittadini e con i comitati, possono creare un lavoro di grande qualità di rigenerazione urbana e Napoli per me può essere proprio la capitale di una nuova rigenerazione urbana, di nuovi modelli di partecipazione, nuovi modelli di sviluppo, anche rispetto al nuovo flusso turistico che noi stiamo vivendo, di cercare di riuscire ad avere una grande opportunità rispetto al turismo ma gestirlo in una forma che riesca a valorizzare l'identità di Napoli, Napoli e cittadini napoletani. Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della conferenza episcopale campana ha visitato oggi gli spazi del CIS Interporto. C'è bisogno di prendere coscienza di realtà positive e eccellenti come il CIS Interporto. E' qui che naturalmente si può toccare con mano che la disperazione, il pessimismo non deve vincere, soprattutto negare ai giovani quella speranza di cui hanno diritto per realizzare i propri sogni. Ecco, qui è un esempio eccellente di come si possono superare le difficoltà, di come si può avere coraggio e soprattutto di come si riesce anche concretamente a dare possibilità a tanti ragazzi, giovani, di poter lavorare. Controlli a tappeto della Polizia Municipale a Napoli contro i parcheggiatori abusivi nei pressi delle stazioni ferroviarie, aree portuali, marittime e delle fermate degli autobus. Il bilancio è di 170 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane interessate. Inoltre sono state emesse dalle forze dell'ordine 106 denunce nei confronti di chi è stato sorpreso mentre parcheggiava nelle aree che erano state loro vietate, in quanto già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso. La sinergia e le correlazioni tra attività di impresa e mondo circostante si fanno di giorno in giorno più articolate e complesse. Da un lato è palese la crescita esponenziale del ruolo che le imprese giocano nella determinazione degli equilibri economici e sociali. Dall'altro è chiara la difficoltà per le stesse di conquistare o mantenere il riconoscimento esterno della funzione che svolgono. Se ne è parlato nel corso dell'incontro sul tema la valorizzazione degli asset materiali e immateriali delle imprese per metterli al servizio di bisogni ambientali o sociali diffusi. Incontro organizzato dal Rotary Club Napoli Sud Ovest con la presidente Pilar Tozzi che ha introdotto il dibattito a cui hanno partecipato esponenti del mondo dell'imprenditoria ed istituzionali. Siamo in una situazione sempre difficile perché sono note le contraddizioni che attraversano il mezzogiorno d'Italia, in particolare il nostro territorio e per cui tutto ciò che può aiutare le imprese a crescere, a produrre occupazione, reddito e quindi benessere e quindi consentire alle stesse di rendere un servizio, di assumere delle responsabilità anche di carattere sociale benvenga. L'impresa è sempre più coinvolta non soltanto nel raggiungimento di quelli che sono i suoi obiettivi e quindi di guadagno ma sempre più viene svolto il suo ruolo economico nella società non solo attraverso la tutela dell'ambiente, dei dipendenti, dell'antinfortunio ma anche da un punto di vista di sviluppo di un'organizzazione che attraverso il codice etico, attraverso un'attenzione particolare alle comunità del territorio sulle quali opera, riesca a conciliare l'affermazione e i risultati economici anche con la tutela di questi beni. Il tema è parlare del ruolo sociale dell'impresa, tema particolarmente delicato, su cui si è scritto tantissimo, non sempre si è centrato il tema, questa sera cercheremo di spiegare bene che cosa si intende per il ruolo sociale dell'impresa. È un argomento decisamente complicato e non è così nel tessuto dell'imprenditoria italiana, è un argomento la responsabilità sociale delle imprese molto anglosassone, in Italia sono le società più grandi, quelle quotate piuttosto che non quelle diffuse o comunque quelle che hanno capito che comunque avere responsabilità sociale all'interno dell'azienda fa sì che i lavoratori tessi dell'azienda vengano coinvolti nel business della società e quindi sia un apporto positivo al bilancio globale della società stessa. Un'impresa che opera in un contesto socio-economico solido e contribuisce a fertilizzarlo implementandolo acquisisce innanzitutto un vantaggio competitivo, ha spiegato Pilar Tozzi, e mette in pratica un rapporto in cui tutti sono vincenti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti